Valerio, Angelo siamo qua per demolire un altro stile di vita cioè non c'era bastato demolire il mio adesso demoliamo anche il tuo lo stile di vita di Sobobuta è una cosa meravigliosa grazie di esserti prestato a tutto questo grazie a voi due grazie a te Alessandro grazie al professor Valerio insomma per il vostro tempo ci divertiremo un sacco voi quanto bene io non lo so adesso ormai siamo nell'ambito attenti a quei due cioè quando arriviamo io ed Alessandro c'è uno stile di vita da demolire la grande che in realtà non è così ovviamente l'obiettivo è quello di analizzare vedere se è possibile fornire qualche consiglio basato sui migliori dati scientifici per ottimizzare quelle che poi sono degli obiettivi perché ovviamente noi non è che andiamo qua a introdurci nelle vite altrui per rompere le palle in realtà potremmo partire da un obiettivo fare uno scenario della persona ovviamente e poi partire da un possibile obiettivo che devi essere tu Angela suggerirci e vediamo se tramite lo stile di vita è possibile raggiungerlo quindi Angelo dici un po' qualcosa di te ciao sono Angelo ho 38 anni mi piace mangiare mi piacciono i fumetti sono un quanto folaro ma sono una persona che non ha grigi nella sua vita passo da 0 a 100 nel giro di un secondo quindi così come magari faccio due anni senza muovermi senza fare niente da un giorno all'altro mi scrivo in palestra e nel giro di due anni perdo 60 chili per poi riprenderli durante la pandemia oh no io sono così ok ho tutto o niente cioè nel senso che anche mia moglie ogni volta rimane basita F4 sul serio perché mentre mi vede che comunque si lavoro faccio le cose mie però sul serio faccio il super pantofolaro poi da un giorno all'altro cambio mindset e faccio tutto quello che non ho fatto gli ultimi due o tre anni quindi per i successivi due o tre anni faccio cose che nei precedenti non facevo è molto interessante questo perché in realtà è uno scenario abbastanza frequente molte persone hanno questo atteggiamento chiamiamolo oscillante fra posizioni contrapposte fra bianco e nero e che si alternano con un andamento più o meno rapido tu dici che queste oscillazioni avvengono ogni anno ogni due anni c'è qualche regolarità? dipende diciamo dai momenti nel senso che questa è una cosa divertente forse ti potrebbe interessare Valerio io ho sempre amato fare sport ho sempre adorato fare sport e fino ai 22-23 anni facevo regolarmente sport poi mi sono fatto malissimo alla schiena e quindi da quel momento in poi mi ha letteralmente rovinato questa cosa quindi ho iniziato a prendere peso perché non riuscivo letteralmente a muovermi quindi diciamo il mio muovermi dipende dalla mia condizione fisica ovvero ormai come una sorta di uroboro faccio sport fino a un certo punto poi puntualmente mi rifaccio male pesantemente e quindi poi devo aspettare di stare bene per prendere a fare sport Angelo senti ma tu sei una persona competitiva? non con gli altri ma con me stesso nel senso che se penso a quello che è il mio lavoro se penso a quello che faccio se penso a quello che a quello che magari sono i rapporti con i miei colleghi in realtà non vedo quello che fanno loro ma penso a quello che faccio io dopodiché io sono l'avversario da battere il nemico di me stesso quindi quando poi ho da fare determinate cose sono io che mi metto alla prova quindi devo fare un determinato lavoro ok magari mi faccio la mia tabella di marcia so che devo fare quel lavoro in tre settimane allora provo a farlo in due oppure devo fare un determinato non lo so video documentario in realtà cerco di andare oltre quelli che sono i limiti di cose che magari in precedenza sono state fatte per migliorare me stesso e quindi sono competitivo con me stesso ma non nei confronti degli altri nel senso che di nuovo ma stai scrivendo due libri contemporaneamente cioè chi è che scrive due libri contemporaneamente Angelo cioè solo tu forse no neanche Stephen King mai nessuno no contemporaneamente no nel senso che mi era stato proposto di scrivere un libro da una casa editrice io l'avevo accettato chiaramente e poi dopo due tre mesi è arrivata una proposta da un'altra grande casa editrice e ha detto ti andrebbe di scrivere un libro ma io nel giorno ne sto scrivendo un altro vabbè nel caso se ti va ha detto sì sì mi va quindi adesso sto finendo di scrivere il primo ho questi due mesi per finire diciamo così di di aggiustare le cose che non mi piacciono e poi da settembre parto con il secondo ok ottimo in questo contesto di alternanza fra stili di vita poi vedremo di che tipo perché ovviamente alcuni stili di vita possono essere intensi ma non sempre sono salutari perché noi qua ci occupiamo di benessere ecco lo scenario di un'eventuale prevenzione del mantenimento della tua funzionalità cognitive la possibilità di non ammalarti è qualcosa che c'è nel tuo orizzonte di interessi è qualcosa a cui pensi su cui rifletti oppure qualche cosa che diciamo per il momento non ti riguarda ancora per funzionalità cognitive cosa intendi intendo che tutti coloro che si occupano di fare content creation sono spesso molto appassionati nell'essere performanti nel fare quello che fanno ecco un problema dell'umanità in questi ultimi decenni è proprio il fatto di una crescita importante di fenomeni di involuzione cerebrale o addirittura di demenza quindi sono situazioni che impediscono alle persone di fare il loro lavoro specialmente dal punto di vista creativo ecco mi chiedevo seria conoscenza sul fatto che alcune modifiche strategiche di lifestyle hanno la comprovata evidenza scientifica di poter contrastare la possibilità che il nostro cervello sia male e che quindi la nostra attività vada a a decadere a scemare del tipo riesci a farmi qualche esempio pratico l'attività fisica orientata ad esempio alla salute ha un significato adesso poi magari ci racconti meglio che tipo di attività fisica tu fai l'alimentazione è assolutamente orientata in questo senso il posto notturno ha le giustamente il controllo dello stress e un aspetto di cui molte persone non fanno tanto caso è il depotenziamento di alcune dipendenze incluse banalmente quelle da carboidrati semplici caffeina alcol nicotine cose di questo genere ok vogliamo andare in ordine così ci raccontiamo perché no attività fisica qual è l'obiettivo della tua attività fisica perché fai attività fisica adesso non sto facendo niente perché durante la pandemia mi sono rifatto male alla schiena pesantemente quindi sono stato 8-9 mesi letteralmente bloccato in che modo se posso sapere io ho due erni in una zona abbastanza particolare quindi se ne è formata una terza è proprio letteralmente esplosa quindi sono rimasto 8 mesi letteralmente in cricca cioè proprio senza muovermi ed è stato drammatico per due motivi il primo è che avevo ripreso un'ottima forma fisica avevo fatto una palestra per due anni e mezzo e poi esattamente all'inizio della pandemia mi sono fatto male quindi non ho avuto la possibilità di curarmi letteralmente perché i medici non venivano a casa all'ospedale non ti vedevano no va bene anche perché lì a Londra funziona in modo diverso che da noi diciamo che la sanità pubblica è come in Italia però io chiamavo piangendo il medico sto male con la schiena general practitioner chiamavi sostanzialmente sì 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 e quindi questo poi ha fatto in modo che io involvessi in quella spirale non dico negativa però del ok mi posso muovere se mi muovo prendo subito peso io sono uno di quelli che si deve muovere sempre mangio poco e ingrasso quindi farti da fisica tu che base dici questo hai mai misurato in maniera attenta questa cosa? sì con i medici sì anche con il mio personal trainer intendo qual è diciamo la comprovata dimostrazione hai qualche dato oggettivo che stai dicendo che anche se diciamo mangi poco tu prendi peso perché questa è un'affermazione molto importante che riguarderà nella popolazione generale circa la 0,5 della popolazione per alcuni discorso più specifici non lo so la mia store cioè nel senso che sul serio sono di quelli che bevono un bicchiere d'acqua in grassa proprio questo è un'affermazione molto importante però per carità è molto importante perché diciamo ha a che vedere con qualcosa che è molto raro e vabbè pace non ce le facciamo mancare niente no no mi piace parlare con Valerio questa chiacchierata potentissima quindi ho bisogno di fare sport solo che io sono molto abitudinario nel senso che se comincio a fare o a non fare una cosa la faccio o non la faccio mi spiego meglio se sto bene fisicamente e comincio ad andare in palestra a farmi un'ora un'ora e dieci tutti i giorni di ellittica per esempio allora diventa la mia abitudine e ci vado tutti i giorni e come dicevo prima divento una sfida con me stesso quindi poi arrivo a fare magari un'ora e dieci un'ora e un quarto di ellittica al massimo della potenza perché mi piace e mi diverto e io ho sempre proprio uno stimolo anche un po' dopaminico che ti viene assolutamente cioè io sono di quelli che quando poi esce dalla palestra sta bene però poi succede anche il contrario ovvero se non vado entro nell'abitudine di non andare e quindi è quello che ti dicevo certo proprio mindset sì deve scattare quella cosa per cui un giorno due giorni tre giorni quattro giorni cinque giorni un mese due mesi tre mesi allora non smetto più però ti immaginare un'attività fisica un po' diversa di altro genere che sia un po' più compatibile magari con con il tuo stato di salute che ti possa permettere di portarla avanti guarda l'ellittica è perfetta mi piace un sacco perché ecco io essendo stato sempre un amante della corsa e del calcio ok quando mi sono fatto male alla schiena ho sofferto tantissimo perché non potevo più andare a correre io abitavo a Napoli quindi tutti i giorni sul lungomare con la brezza marina tutti i giorni è un incremento è un incremento quindi io ho sofferto veramente tantissimo perché poi vedevo persone di 60 70 80 anni che correvano non potevo e rosicavo veramente una bestia maledetta e invece poi da questo punto di vista con l'ellittica quando ho scoperto questo attrezzo per me è stato come ritornare a correre sul serio solo che poi mi sono rifatto male ti faccio un esempio l'aspetto del nuoto è un qualcosa che ho sempre odiato ok anche io l'ho odiato è qualche cosa che però potrebbe essere effettivamente un'alternativa utile per te non è proprio neanche avvicinabile il nuoto da un punto di vista guarda ti dico ci ho provato mille volte e in realtà no non fa proprio per me ma non fa proprio per me non perché dici hai un preconcetto non ti piace no proprio non mi piace e comunque l'attività fisica per quanto sia attività fisica quindi per cui ti devi stancare ti devi impegnare comunque è anche un momento per paradosso di relax metti la musica nelle orecchie e a me quello fa in modo di attivarmi anche cerebralmente cose che poi mi servono per lavoro però mi rilassa ecco è una cosa strana forse quindi tu accopiavi musica con l'attività fisica sì sempre e quello fa in modo che io arrivi a non pensare nulla e a non pensare nulla in realtà mi aiuta nei processi mentali per quello che poi serve per il mio lavoro posso intervenire un attimo qui insomma al di là degli aspetti economici che ovviamente sono rilevanti ma prendersi un'ellittica e tenersela a casa magari costa un casino non so neanche quanto costi una bicicletta magari costa 10.000 euro per me serve quella super professionale che quelle piccoline così non fanno niente ah ho capito poi ti ripeto diventa gigantesca e costosissima no quello non c'entra in casa saprei veramente dove a meno mi serviva una stanza a parte perché per direti io sono uguale a te nel senso che solo con la costanza se no poi svacco il fatto di avere gli attrezzi a casa è quello che mi ha salvato perché io odio andare in palestra però averceli a casa riesco a essere costante però ovviamente l'ellittica è gigantesca gigantesca no ma per dire io avevo ripreso andare in palestra a dicembre ho fatto dicembre gennaio o febbraio poi a febbraio sono stato male ho avuto un'influenza ah sì mi ricordo sì poi sono caduto mi sono rifatto male cioè è un casino non riesco sì si sfiga non riesco a essere costante e quindi poi sono di Giappone mi sono fatto male al crurale cioè è proprio una cosa allucinante e quindi c'è la nuvola di fantozzi sì sì è un cane che si morde la coda ma è colpa mia conosco perché dici che è colpa tua? è perché è un cane che se 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 morde la coda ovvero comunque prendere peso non fa bene la mia schiena e quindi se più sei pesante più va sulla schiena più la schiena ti fa male più non ti riesci a muovere quindi se non ti muovi è un po' in palestra cioè è una cosa molto è il cane che si mangia la coda lo so benissimo però adesso sono fiducioso rispetta cosa sei fiducioso? perché la gamba sta molto meglio non c'ho più l'infiammazione quindi stai per tornare sì sì è ora angelo ti faccio un esempio se quello che io ti sto dicendo ovviamente siamo in un contesto molto informale ma se ci fosse un medico che ti prescrivesse cambiamento di attività fisica e ti dicesse io ritengo che per il modo in cui stai e per far sì che si inneschi una sorta di movimento virtuoso nella tua vita potrebbe essere utile provare a cambiare ci proverei senza problemi assolutamente sì anche il nuoto ad esempio potrebbe essere una prescrizione vedo che Valerio insiste col nuoto no no sto cercando di capire qual è il margine diciamo diciamo che scusate se vi interroppo stiamo parlando di un lavoro sulla salute quindi è questione anche di metterci d'accordo sul fatto se riteniamo e quanto riteniamo importante avere ad esempio dolore vivere a lungo e vivere in maniera come dire in assenza di problematiche ad esempio di deambulazione o qualcosa magari grave perché se riteniamo che questa cosa è importante allora a quel punto lì si introduce un elemento di motivazione connesso anche alla consapevolezza delle conseguenze di alcune scelte la palestra per una persona come te è oggettivamente difficile l'elitica è una delle strategie ma potrebbe essere che appassionarsi a qualcosa di nuovo abbia a che vedere anche magari col tuo mindset proprio con la possibilità di aprirti verso altre direzioni personalmente ho fatto dei cambiamenti notevoli nella mia vita e cose che mai avrei immaginato di dover fare proprio anche in ragione di problematiche di salute alla fine poi mi sono ritrovato a fare ad appassionarmi ci pure ok beh diciamo che un ultimo tentativo alla piscina si potrebbe rifare tra parentesi ci sono le cuffie che si usano anche in acqua lo sai quelle a cocleari che ammetto che non lo sapevo ecco questa potrebbe essere una svolta questa potrebbe essere una svolta capiamo e tu puoi ascoltare la musica mentre nuoti fare podcast quello che vuoi hanno trasmissione cocleare cioè si appoggiano sul temporale e praticamente hai una trasmissione ossea della musica e si sente molto bene ogni tanto quelli che ti passano un po' vicino possono sentirla anche loro perché fai un po' di cassa non ne avevo la più pallida idea è figo uno stimolo in più uno stimolo in più no questa me la segno allora ok le cose strane che conosce solo Valerio le cuffie che trasmettono alle ossa la musica sì è bello ragazzi questa non me l'hanno insegnata medicina perché anche a me piace ascoltare in alcuni casi io sono un po' legato al fare attività fisica per collegarla allo svuotamento proprio della mente nel mio caso funziona ad esempio non usare musica e muovermi in maniera davvero un po' un po' zen però è ovvio che alcune alcune persone hanno questa questa esigenza peraltro sai che cosa ascolto io quando faccio allenamento nove volte su dieci i video dei sommo buta veramente ma questa per me è una cosa allucinante apriamo una parentesi perché io ho scoperto che ci sono ecco persone ecco vanno a fare attività fisica vanno in palestra così e ascoltano i miei video ora i miei video sono noiosi una rottura di palle infinita ma non è vero io mi immagino questi poveri cristi che alzano pesi invece di darsi forza si è emoscia cioè la monografica di tre ore sulla storia di Berlusconi ci ho pompato Giza come un animale cioè io ho passeggiato con dei tuoi video sicuramente quello sì passeggiare ancora ancora lo capisco ma fare attività fisica compare Giza proprio va bene per me inquietante per me inquietante però va bene e guarda quel livello di nostro di nostro fan è altissimo elevatissimo devi abituarti che insomma se ci vediamo mi faccio la foto e poi la manda mia moglie va benissimo sarà fatto ma senti però qui mi introduco io perché a me di tutti i pilastri del lifestyle di cui Valerio si occupa quello che a me interessa di più di tutti proprio perché mi piace è il sonno ok perché per me è importantissimo e tu dormi bene dormi tanto allora io di mio sono un breve dormitore nel senso che a me bastano anche quattro ore e mezza cinque ore per essere funzionalissimo sto implodendo per essere rilassatissimo no però il fatto che mi bastino cinque ore non significa che magari dormo sei ore e mezza sette ore cioè ormai di default vado a dormire verso mezzanotte l'una e per le otto mi alzo però se capita tipo stamattina mi sono svegliato che erano le sei e mezza e mi sono alzato riposatissimo senza problemi ma perché davvero di default sono sempre stato un brevissimo dormitore non mi sono mai cioè non sono mai stato uno di quelli che ha bisogno di otto nove dieci ore per stare bene che poi capita dici ok oggi è domenica ma sì oggi poltriamo un po' di più chi se ne frega però di norma davvero cioè cinque ore mi bastano poi me ne prendo io quell'oretta e me quel ciclo in più di sonno me lo prendo io mettiamolo così così sto più rilassato sei sempre stato così sempre cioè è sempre questo il tuo stile io sin da quando ero bambino mi sono sempre alzato presto al mattino ok non ho mai avuto problemi ad alzarmi presto al mattino mai i miei genitori mi hanno educato così quindi mio padre alle sette meno dieci una mattina mi veniva a svegliare non è male come stile sì no 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 e oggi diciamo che in linea generale cerco di fare la stessa cosa però col tempo ho capito che la mattina mi serve per fare cose tecniche perché la mia creatività esce fuori il pomeriggio ovvero la mattina la uso la utilizzo per mandare mail la utilizzo magari per fare cose tecniche come montare un video se lo devo montare fare le cose un po' più diciamo così pratiche mentre invece la parte ecco veramente creativa di quello che è il mio lavoro si attiva intorno alle tre tre e mezza del pomeriggio prima no non so se se questa è angelo ma il sonno potremmo dire che non è un tuo problema nel senso non lo senti come un tuo problema no 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 non ho mai avuto problemi non ho mai avuto problemi non ti addormento in fretta mi addormento in fretta l'unica l'unica cosa che mi dà ansia è quando devo prendere l'aero la mattina tipo alle cinque del mattino e allora mi stizzo perché poi devo farmi arrivare a uber tipo alle tre del mattino quindi vabbè il tuo lavoro angelo è prevalentemente content creator direi sì io ormai prevalentemente scrivo realizzo video fondamentalmente ho a che fare con casi editrici che si occupano di fumetto da quest'anno sono uno dei curatori di comic con quindi mi sono occupato della insomma di tutto il piano editoriale e culturale di quella che ad oggi è la seconda fiera del fumetto della cultura pop in italia quindi prevalentemente ormai diciamo che il mio lavoro è intellettuale ok ok lo streaming da questo punto quello è importante anche quello è un'abitudine eh vabbè sì poi diciamo che faccio pure il buffone su twitch però è un'attività poi vedremo può essere stressante ma ti volevo chiedere una cosa angelo sì durante la notte tu hai un riposo buono comunque ad esempio ti faccio un esempio stupido non russi no può capitare qualche volta ma mia moglie non si è mai lamentata quindi non digrigni mai i denti non ti ha mai riferito di essere uno di quelli che sbattano i denti no ok e non hai dei risvegli diciamo ti tiri bello dritto la notte e allora di default mi faccio quelle mie cinque ore di sonno e poi mi sveglio per andare in bagno ok e poi ecco se è proprio veramente presto vedo che sono veramente cinque e mezzo vabbè dai un'altra oretta e mezza ci sta e poi mi alzo ok beh diciamo che il sonno così proprio a volo sembra non essere un problema e questa è una cosa positiva perché è indubbiamente un momento compensativo per la giornata molto importante e oltretutto è correlato in qualche maniera anche il tuo stile di sonno ha la possibilità di un migliore controllo del peso in teoria quindi non è un un problema ecco no Ale direi visto ormai che stiamo diventando io invece di grigno i denti ho le apne notturne con un filo di luce così me sveglio devo dormire fino a tardi ma per di grignare i denti cioè ci sono persone di notte mentre dormono sì sì proprio che si sentono i vicini di casa lo sentono ah sì non lo sapevo questa cosa non russo ma di grigno i denti si chiama bruxismo lo sapete è una cosa che richiede comunque la possibilità bello questo lo diciamo per Ale intanto ormai questo richiede la possibilità di utilizzare un dispositivo medico che si chiama bite che si mette in bocca che evita beh è molto utile ti garantisco che migliora ecco questa è una cosa che non avevamo approfondito l'altra volta non riesco mai a scappare dall'analisi di Valerio delle motivazioni in cui il sonno non è riposante è il bruxismo Angelo senti dobbiamo arrivare a un argomento che potrebbe essere impegnativo vai intenso alimentazione ok come funziona la tua alimentazione ha un andamento un po' simile a quello dello sport cioè periodi di maggiore controllo periodi di scontrollo allora adesso adesso c'è una cosa strana che effettivamente mi piace mangiare chiaramente non posso dire il contrario però non sono uno di quelli che tipo va de notte a mangiare nel frigorifero non ho mai fatta questa cosa così e così come in realtà sono abbastanza regolare cioè a pranzo se capita primo con un contorno che può essere insalata la sera il pollo con un contorno e la frutta stop poi chiaramente magari il sabato si mangia una pizza un dolcino ci esce non è che non ci esce oppure magari con mia moglie usciamo oppure facciamo un take away però in realtà non è che stiamo a livelli sai non ti mangi la torta al pomeriggio no 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 questo no questo non l'ho mai fatto non so se è troppo intima come domanda mi puoi dire tua altezza e tuo peso io non ho niente da nascondere perché sai è un dato importante per me per capire io sono 1,76 e adesso peso 153 kg e dovrebbe essere almeno 103 104 ok ok peso forma ai tempi quando facevo sport in maniera così la mia nutrizionista disse che dovevo stare intorno ai 95 kg e io quando andavo a correre e pesavo 83 84 kg cioè una persona normale la mia nutrizionista diceva che addirittura ero sotto peso la tua altezza è strana perché siamo altri più o meno uguali noi sono comunque grosso di mio a prescindere ma la mia domanda è questa hai mai frequentato ad esempio una attenta una curata profilazione endocrinologica cioè a parte la nutrizionista che non è un medico sei mai stato da un medico in maniera specifica per fare no dall'endocrinologo no endocrinologo dietologo quindi fare una veramente un profile in medico fatto bene perché questo lo meriterebbe no non ci sono mai stato te lo dico perché l'aspetto nutrizionale è il momento è il più banale fra tutti nel senso che ormai come mangiare più o meno lo sappiamo tutti ci sono delle strategie più o meno efficaci ma nel tuo caso bisogna indubbiamente trovare un modo per andare in deficit calorico chiaramente no e in questo senso qua ma questo per tante ragioni perché se è vero che il sonno va bene se è vero che rispetto all'attività fisica hai un'attitudine buona nel senso anche possibilista verso dei cambiamenti rispetto all'alimentazione bisogna un po' accendere la luce nella stanza per capire come mai nonostante un percepito che è tutto sommato non così non così esorbitante non esagerato di alimentazione effettivamente poi c'è un dato di fatto importante anche perché vale mi pare che le linee guida che tu per esempio avevi dato a me sono rispettate cioè tu dicevi mangiare soprattutto i carboidrati a pranzo la cena mi sembra che Angelo rispetti abbastanza l'andamento che tu di solito consigli poi è chiaro che quando entro nel mindset diciamo così eccola dell'attività fisica comincio ad essere oltremodo attento perché di nuovo entri nel circolo virtuoso in quel caso e quindi stai super attento a quello che mangi a come lo mangi a quando lo mangi Angelo ti faccio un esempio con Ale durante gli ultimi giorni insomma abbiamo ragionato tanto su questi temi e ci siamo confrontati rispetto al fatto che fra tutto diciamo i pilastri di lifestyle l'unico che merita di essere costantemente monitorizzato addirittura chiedendo aiuto verso l'esterno o utilizzando qualche genere di device elettronica o di strategia è proprio l'alimentazione perché abbiamo studi clinici che ci dicono che il percepito del nostro introito calorico è quanto di più falso falsificabile della nostra coscienza noi pensiamo di mangiare una roba e poi non è vero è una roba incredibile ma è incredibile quando tu cominci a misurare scopri che non sappiamo cosa stiamo facendo è incredibile guarda io sul mio cellulare ce l'ho sempre che è MyFitnessPal è la stessa che uso io grandissima sta sempre qua e quando entro in quel mindset e allora diventa il miglior amico e quando non sta in quel mindset non lo accendo perché è un nemico persecutorio no ma in realtà no non è un nemico il punto diventa è un amico del cazzo ma no 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 qua magari uno potrebbe farci ecco un contenuto a parte io posso raccontare solo la mia esperienza perché quello è no in realtà di nuovo il mio problema vedi che io mi conosco bene è proprio la routine ovvero quando entro nella routine salutista a me frega niente so che devo andare in palestra devo mangiare quello non ci sto male poi magari come tutti gli esseri umani magari quella volta alla settimana e lo sgarro lo fai il dolce te lo magni la pizza te la mangi non fai niente però quando entro in quel mindset quel mindset è non si sgarra quando invece non sto in quel mindset sto normale che è quello che mi fotte che mi frega perché in realtà dovrei assumere il mindset dell'attività fisica anche poi nei confronti dell'alimentazione quindi stare super attento ingerire solo quel tot di calorie al giorno che poi di nuovo non è che ecco faccio la roba angelo sai cos'è è che oggettivamente noi abbiamo un imprinting quando siamo piccoli realmente importante da parte dei nostri genitori da parte di una cultura che è quella italiana che nonostante si spertichino a dire che è la migliore alimentare del mondo non è esattamente così guarda che ci arrivano i commenti Valeri guarda io ho tantissimi colleghi che mettono profondamente in crisi l'ideale ipotetico metafisico positivo assoluto della dieta mediterranea ci sono è chiaro che la dieta mediterranea è un'ottima base di partenza è un'ottima base di partenza in una condizione di alimentazione già di per sé strutturata è una delle possibili diete salutari in realtà abbiamo molti dati che parlano di alimentazione mediterranea come di anti-aging anti-demenza eccetera eccetera ma andate a vedere che cosa intendono per alimentazione mediterranea ok io sono un super fan di Napoli e per me Napoli è una città io e mia moglie ci andiamo due o tre volte all'anno proprio siamo appassionatissimi e ripeto ma Genova non si discosta poi molto ecco quella che è l'alimentazione tipica di una mamma italiana non è certamente l'alimentazione mediterranea ok all grains cereali tutte le paste verdure a go go esatto mia mamma quando mi parlava di verdure che peraltro è una cuoca fantastica mi portava i pansotti che mi diceva è tutta verdura mi dice è tutta verdura non ti preoccupare beh se uno analizza come sono i pansotti alla Genovese sono indubbiamente una gran parte di verdura ma poi c'è tutta una serie di condimento di cose che insomma che stravolgono il significato della mediterranea italiana ma sono melanzane sì ma fritte e con sopra il formato ecco le melanzane alla parmigiana a Napoli ragazzi ho capito però è verdura è verdura ma io non sono mai stato un grande fan non mi piacciono no ok gatto di patate sì quello sì no però nello specifico la parmigiana che fa impazzire tutti buono in ogni caso è molto importante nella vita riuscire a entrare in una mindset di dieta che non sia mi faccio un culo così tutta la settimana per arrivare allo sgarro questo non funziona perché è un costante tendere verso lo sgarro ok chiaramente è come se io io ti faccio un esempio sono un fumatore se dovessi dire ma guarda fumo solo il sabato io impazzirei nel senso che passerei delle settimane di merda aspettando un sabato che non arriva mai e con una depressione terribile dalla domenica fino al sabato dopo e poi il sabato impazzisci letteralmente che fumi tutto quello che non solo mi fumo lì infumabile certo bisogna entrare nell'ottica che i carboidrati semplici alcune combinazioni alimentari quello che viene chiamato bliss point cioè la combinazione di alcuni grassi con alcuni sali con dello zucchero eccetera che sono sotto lo studio delle aziende del food ecco sono al pari di vere e proprie dipendenze per cui facciamo tutte le stesse strategie negative che usiamo con le dipendenze mentiamo soprassediamo ci perdoniamo diciamo sì io l'ho conosciuto perché come ex fumatore le ho fatte tutte quanto fumi fumo un sacco tra l'altro io fumavo un sacco ma adesso ti dico che fumo un sacco quando ero lì ma una decina al giorno ne fumavo un pacchetto un pacchetto e mezzo magari no e dicevo una decina al giorno e non sono non ho un ritardo mentale un'intelligenza media ho studiato sono una persona normale e mentivo ma mentivo a me e allo stesso modo non era una strategia quella di dire interromperò diminuirò io a un certo punto sono entrato in una modalità in cui non me la sono più raccontata ho deciso che avevo un problema con questa questione ecco col cibo abbiamo molto più che con le sigarette tutti cioè io Alessandro e te io sono compulsivo per esempio io ho solo due modalità o sono un monaco buddista oppure svacco è lo stesso di Angelo non sono capace di stare a mettere sì però a differenza di Angelo cioè lui dice che comunque anche quando è normale non si controlla però mangia più o meno cioè io se non mi controllo svacco duro cioè proprio io magno solo merda cioè io proprio ho fatto anni a mangiare al McDonald's cinque volte a settimana ok allora ragazzi ci sono delle regole quando arrivano da me i pazienti io non posso raccontare bugie ok c'è una regola la regola zero dell'alimentazione che se io consumo più di quanto mangio dimagrisco ok il deficit di calore e la questione del metabolismo ha a che vedere con dei parametri ancora di altro tipo ma che impattano comunque in maniera diversa da questa regola diciamo del deficit calorico quindi questo è il primo punto certamente il metabolismo ha a che vedere con un'altra questione cioè con la nostra il nostro craving per il cibo che è quello il problema non è andare dal nutrizionista il problema è gestire il craving il craving è collegato l'avvogliare magnà ecco il craving di fumare per me il craving Alessandro per YouTube Studio e magari quello di Angelo per non so per qualcos'altro ora togliamo un attimo la questione del cibo se noi applichiamo alcune regole di di dietetiche abbiamo la possibilità di diminuire questo craving ci sono anche le possibilità di diminuire questo craving anche con dei farmaci adesso recentemente abbiamo un farmaco importante che è entrato sul mercato che è la semaglutide che viene utilizzata per perdere peso è efficace ma ripeto è qualche cosa che andrebbe messo sempre in secondo piano in secondo ordine rispetto a una comprensione completa di quelli che sono le dimensioni dell'alimentazione e poi vedere se si riesce a lavorare proprio sui nostri ormoni mi spiego se io riesco a diminuire i carboidrati semplici ma proprio addirittura a toglierli a muovermi in un ambito low carb mi imbottisco di proteine quando voglio di vegetali quanto voglio ma mi metto in questo mindset vi garantisco che l'ipoglicemia scompare il craving dopo un po' scompare ma dopo non troppo un'altra cosa importante è togliere tutto ciò che è super saporito il nostro cervello ingannato da questo genere di informazioni la coca zero non va comunque bene bisogna bere acqua io parlo con Angelo non sa non sa di niente non sa di niente Valerio l'acqua ormai siamo abituati a questo ragazzi noi ormai come accade con i social media con la pornografia anche col cibo abbiamo bisogno di uno stimolo eccessivo ok la cucina mediterranea quella che ci parlano come sana è effettivamente una cucina che ormai noi giudicheremo priva di sapore poco olio poco sale cereali legumi molti vegetali molta materia prima di qualità non sa di niente perché la cucina mediterranea di adesso è quella che vediamo nei grandi show televisivi che è un bordello di condimenti la pasta alla gricia io voglio mangiare che saporita quindi bisogna mettersi un po' bene d'accordo cosa si intende per queste cose ripeto l'alimentazione è fra tutti i pilastri quello più interessante per la questione del mantenimento di un buon benessere mentale e fisico ovviamente è anche quello più complesso perché è l'unico che merita un'attenta analisi anche ormonale in primo luogo perché poi ci sono situazioni in cui veramente le persone possono prendere più peso di altre in relazione a squilibri ormonali ma sono poche e nel caso vanno affrontate perché sono diciamo cioè il medico lo deve dire life treating certo bisogna stare un po' attenti perché ecco e ripeto Angelo se dovessi darti un primo consiglio prima di partire proprio per quello che mi hai raccontato e le informazioni che davvero in maniera molto onesta e trasparente e condiviso varrebbe la pena un inquadramento medico medico proprio specialistico quindi dietologico endocrinologico e andare un po' alla ricerca se il gatto di Schrödinger in che condizione è insomma anche perché se davvero poveraccio te non fai niente di male magari diciamo che la fortuna nella sfortuna è che appena inizi a fare attività fisica subito rispondi bene subito cioè nel senso che ma sul serio da una settimana all'altra ok bisogna capire perché allora perché questo è una condizione cioè l'oscillazione quella che tu presenti l'oscillazione è di per sé instabile quindi potrebbe essere il preambolo di un continuo che magari dura tutta la vita oscillazioni di questo genere che non è salutare perché non è che se tu controbilanci cioè è la media cioè la media fra due posizioni così estreme purtroppo non è quella di mezzo quindi bisogna stare molto attenti e questo è un elemento che io come medico ti invito veramente approfondirlo col cuore in mano e di farlo velocemente ti prometto che lo farò vale ci metti in riga tutta YouTube Italia adesso dobbiamo fare questa roba e dobbiamo mettere no beh io sono contento se riesco a essere emotivo ecco perché quando si parla di lifestyle è veramente importante ad esempio noi adesso abbiamo poco tempo abbiamo iniziato in salita ok io ho iniziato con una progressione troppo veloce ok io e Angelo non ci conosciamo io e te Ale siamo però il mio lavoro in questo momento non è quello di appunto demolire l'aista anche se farete delle copertine indecorose però il mio ruolo dovrebbe essere in primo in prima istanza quello di costruire una relazione e se io sono in salita ok se inizio a romperti il cazzo per ogni cosa tu esci di qua e ti mandi a fare il culo alla palestra ti riempi di cibo ed inizi magari anche a drogarti ok certo questo è fondamentale si ottiene l'effetto contrario opposto mi sembra beh guarda noi medici dobbiamo molto molto sintonizzarci su questa consapevolezza perché un po' per velocità un po' per il fatto che spesso a noi non ci controllano su quanto efficaci siamo ci dimentichiamo di queste dimensioni cioè quella che si chiama relazione col paziente che purtroppo nei prossimi anni potrebbe essere l'unica cosa che non verrà rimpiazzata da un'intelligenza artificiale quindi dobbiamo stare molto attenti a essere molto bravi a costruire vedi in tv questi motivatori no oppure il medico che ti dice te maledetto devi mangiare meno c'è il dottor Nozaradan diciamo che l'empatia l'empatia dovrebbe essere uno dei principi cardine di qualsiasi medico invece a volte capita altre volte no cioè io vi ricordo di aver visto questa cosa non so se prende chi è il dottor Nozaradan quello che fa questo è uno che fa una trasmissione americana dove vanno da lui dei pazienti non obesi ma moltissimo persone che pesano 400 kg ecco di quelle cose americane esatto americane e lui e lui dice tu morirai morirai presto devi smettere non funziona ma non è una bella cosa cioè non lo aiuti morirà anche il medico perché si stressa povero lui è terribile cioè non funziona ricordati che devi morire come disse il saggio esatto ricordati che poi me lo segno Valerio e lo stress perché a mente io ho chiesto ad Angelo questa partecipazione soprattutto perché secondo me nel tema dello stress la vita del content creator è una vita subdola perché è un po' il lavoro che tutti sognano perché dici non faccio fatica ma secondo me presenta delle fonti di stress nascoste mi sono inventato questa cosa Valerio oppure ha senso io stesso che da medico sono diventato content creator ho toccato con mano quello che può sperimentare Angelo che da quello che conosco esatto lo fa da molto tempo e con un'intensità notevole ci sono forme di stress che vengono chiamate invisibili nascoste a seconda delle scuole di pensiero che sono realmente impattanti spesso perché sono più di una ad esempio e spesso perché vengono considerate e abbiamo un ritorno dall'ambiente che ci circonda di tipo positivo no? ah accidenti il content creator sempre online bello divertente nessun problema le persone va a sapere che corri dietro l'algoritmo acceleri devi aumentare la produzione di contenuti ingaggiare gli altri valutarti stare attaccato appunto a vanity metrics che poi diventano anche variabili di guadagno quindi è stressante nonostante venga considerato un happy problem per alcune persone ecco questo è un aspetto molto importante perché è probabilmente più impattante di quelli che vengono considerati stress espliciti magari traumatici ti faccio un esempio gestione del denaro un altro elemento di stress nascosto molto importante volatilità delle nostre esistenze quindi per un content creator che non è certamente un dipendente del servizio sanitario nazionale o statale la volatilità è qualcosa che ormai fa parte del tuo DNA probabilmente il fatto che oscillano le metriche oscillano i pareri oscillano le tue performance magari con efficacia allo stesso modo con alcune dimensioni in cui tutti ci stiamo immergendo di un orizzonte temporale di catastrofe che può avere a che vedere con la guerra col cambiamento climatico con la crisi economica su questo mi fermo un secondo Valerio perché è interessante perché Angelo è soprattutto uno storico io mi ricordo che lui raccontava quando partì la guerra un anno fa che aveva avuto un momento in cui non riusciva a staccarsi dalle news che guardavi mi ricordo bene quella cosa che raccontavi diciamo che questa è una cosa interessante nel senso che almeno all'inizio io ero bramoso e desideroso di sapere cosa stesse accadendo ma non per una sorta di pornografia nei confronti delle notizie ma perché mi interessava capire le dinamiche di quello che stava accadendo sul campo perché essendo di base uno storico sono naturalmente soprattutto gli inizi di cose del genere sono ecco dei punti importanti che poi vanno messi sulla mappa della storia e quindi io almeno nella prima settimana volevo un attimo capire che cosa stesse succedendo poi piano piano ci siamo un pochino tutti anestetizzati da questo punto di vista però io ero molto desideroso e quindi mi guardavo facevo proprio il giro di tutti i siti portali di informazione per capire che cosa stesse accadendo dal punto di vista dello stress io sono molto anomalo penso nel senso che questa è una cosa che probabilmente quasi sicuramente Valerio non lo sa io comunque fino a tre anni fa lavoravo normalmente io fino prima della pandemia utilizzavo il mio essere content creator su youtube su siti forum blog poi su twitch in realtà come un hobby ben remunerato ma sempre come un hobby e poi ho avuto diciamo questa pazza idea esattamente quando è iniziata la pandemia di prendermi un anno sabbatico per dedicarmi quasi solo qual era il tuo lavoro principale se posso sapere io ho lavorato per tanti anni in ambito seo e quindi per un'agenzia per un'azienda per un'azienda e quindi ho detto sai che c'è mi dedico un anno alle cazzate che mi piacciono quest'anno sabbatico questo è il terzo anno sabbatico che insomma che sto vivendo in realtà quello che tu dicevi è molto interessante però io non l'ho mai vissuta come un'imposizione ovvero io sono sempre stato abbastanza convinto che ecco per esempio lo stress oppure il burnout di quelli che fanno ecco il mio lavoro il nostro lavoro quindi produrre contenuti produrre contenuti in maniera continuativa su youtube oppure su twitch dove ecco la piattaforma ti costringe quasi a essere tutti i giorni in realtà è proprio di chi poi a un certo punto non ha più niente da raccontare ovvero il burnout ti viene nel momento in cui tu sei costretto a dover essere sempre presente a dover caricare contenuti a fare contenuti anche quando uno non hai voglia e due effettivamente non hai più nulla da raccontare in questo non voglio dire di essere fortunato però sarà che ecco io sono cresciuto quando internet stava esplodendo sono cresciuto con l'idea della blogosfera io nasco come blogger quindi tutti i giorni un contenuto ci doveva essere e il contenuto lo potevi prendere veramente ovunque poi ho questo questa malattia che è la lettura e quindi mi piace leggere non solo fumetti ma di tutto io posso iniziare a parlare adesso finire fra sette anni non mi faccio problemi questi sette anni continuo a leggere quindi idee per contenuti non mancano quello che dici è vero però perché lo vedo anche sulla pelle di molti colleghi a un certo punto vanno letteralmente in down perché ecco il dover proporre sempre comunque contenuti fa in modo che soprattutto se ti diventa un lavoro come è questo fa in modo che poi te la vivi anche male senti Angelo scusami se ti interrompo il tuo rapporto con le vacanze qual è? ti piacciono? ti diverti? te le godi? me le godo Alessandro lo sa io almeno due o tre volte all'anno mi prendo una settimana dieci giorni quindi un mese intero dove prendo il cellulare e lo stacco totalmente internet lo stacco totalmente non voglio sapere assolutamente nulla perché? perché quello è il momento solo per me punto non ci sono per te per tua moglie per me per mia moglie chiaramente avete dei figli? no no mia moglie non li vuole io insomma ho accettato scusa la domanda era per sapere un po' di scenario assolutamente ho accettato questa cosa tanto tempo fa ho detto va bene effettivamente guardandomi dentro ho capito probabilmente che non sarei stato anche io diciamo una figura paterna sembra una persona molto affettuosa dovessi dirti se mi chiedi se mi piacciono ma mi sì però ne faccio un problema di responsabilità penso che sia una responsabilità talmente gigantesca che il problema e in che senso potresti essere irresponsabile in questo in questa in questa prospettiva se è troppo intima no non è troppo di nuovo qua siamo non abbiamo niente da nascondere ci ascolteranno solo quei 250 miglia ma sì ma figurati perché mi sembri anche una persona responsabile dovessi dire ti ringrazio no diciamo che ponderata parte credo tutto da una questione veramente personale ovvero io ho perso mio papà quando avevo 10 anni ho capito quindi forse probabilmente sono entrato quasi sicuramente in realtà sono entrato in quel mindset anche del non voler avere un bambino perché putacaso mi capita qualcosa non vorrei che mio figlio passasse quello che ho passato io cioè detta proprio molto molto sinceramente e poi credo sia anche la questione proprio di responsabilità nel senso che io sono innamorato comunque della mia libertà del gestire quello che faccio quando voglio e quindi avere chiaramente un figlio è un qualcosa che ti cambia totalmente la vita ti rivoluziona la vita perché poi la tua vita soprattutto nei primi anni del bambino è interamente dedicata al bambino e oggi come oggi non mi sentirei di assumermi questa responsabilità oltre al fatto che proprio mia moglie non ne vuole sapere ma perché io sono mediamente convinto in realtà lo sa anche lei che se avessimo mai un bambino lei diventerebbe una di quelle mamme cacacazze proprio la campana di vetro cioè tutto il contrario tutto l'opposto lei dice che odia i bambini poi non è vero io lo vedo quando giocano i bambini ma sono sicuro che lei diventerebbe quella mamma super apprensiva campana di vetro io tutto l'opposto invece ma si va a giocare va a te sporca a mezzo la terra va a giocare a pallure ma il cazzo che ti pare rompiti una gamba rompiti una gamba è tutta esperienza e via invece lei diventerebbe tutto il contrario quindi meglio di no allora Angelo è una persona che rispetto alla questione dello stress meriterebbe un'attenzione più approfondita diciamo che è raro che ci siano esseri umani che non abbiano sorgenti di stress di qualche maniera rilevanti però è sicuramente una persona molto strutturata centrata e in questo senso centrata assolutamente adulta quindi richiederebbe un livello di intimità e di approfondimento che non è assolutamente compatibile con un live di questo genere e d'altra parte il versante positivo di tutto questo è che probabilmente non c'è nulla di così grosso rispetto allo stress nascosto poi è ovvio che ci sono anche situazioni che hanno che vedere come ci hai detto tu adesso e questa cosa mi sorprende mi dispiace appunto di un trauma di questo genere che poi lasciano degli aloni che meritano tutt'altro genere di 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 appropinquamento da parte di un terapeuta non certo sullo stile di vita anche se comunque in questo caso meriterebbe un approfondimento per cui direi che lo stress la serenità di Angelo comunque una cosa che a me mi ha sempre colpito cioè Angelo comunica serenità io vivo vivo sempre stressato sempre che ah Dio questo quell'altro non riesco mai a staccare no quando stacco poi penso al lavoro quando no no secondo me terribile cioè uno allora questo questo credo sia poi anche una questione veramente mentale uno un po' diventa schiavo è proprio lavoro nel senso che mi rendo conto che comunque noi essendo liberi professionisti chiaramente campiamo di quello però si deve anche arrivare al punto in cui ti fai un attimo i tuoi conti e dici ok ma magari questo mese posso dedicarmi a fare questa cosa qui e lasciare questo altro ambito perché se no impazzisci cioè davvero tu non puoi stare presso all'algoritmo non puoi stare presso i follower io ho sempre pensato ma questo è il mio modo di pensare comunque noi che siamo fortunati siamo dei privilegiati siamo riusciti comunque a trasformare ecco quella che è la nostra passione in un lavoro e però tu non ti puoi far divorare da questa passione e passione per il lavoro perché altrimenti tu diventi uno schiavo di questa roba qui ecco per esempio fare twitch come dicevo prima fare twitch diventa una schiavitù arrivato a un certo punto perché l'algoritmo ti costringe a fare live tutti i giorni a stare sette otto ore lì sulla piattaforma che per me è follia io penso di essere in proporzione a quello che faccio il content creator su twitch e fa meno ore in assoluto nel mese scorso ho fatto 20 ore di live perché per me fare quella live significa fare quel contenuto di un'ora un'ora in quarto come se fosse una radio con quel contenuto pensato e strutturato e poi basta cioè io questo mese Alessandro lo sa perché volevo finire io ho staccato totalmente questo mese da twitch non mi è fregato niente quando tu l'hai scritto io ho pensato madonna vorrei essere come lui nel senso che lui a un certo punto ha detto ragazzi io questo mese ho da fare ci rivediamo il mese prossimo e io ho pensato come è possibile cioè no il punto è che ok ragazzi però io vi devo dire anche una cosa ricordatevi che io resto comunque uno psichiatra e a noi psichiatri gli aspetti logici gli aspetti esoterici espliciti interessano poco noi siamo affascinati e siamo interessati tutto quello che è esoterico tutto quello che è nascosto deflesso deformato profondo no Freud diceva una cosa che è un po' il basamento del lavoro dello psichiatra nessuno di noi in ultima analisi è padrone in casa propria cioè ognuno di noi ha una pulsionalità e chi è appassionato di fumetti ok da berserk che vedo dietro e a qualunque genere di opera letteraria l'interessante non è l'esplicito l'interessante è quello che cova sotto la braccia e che pian piano viene manifestato dall'autore ok e in psichiatria è la stessa cosa quindi ripeto nell'analisi dello stress nell'analisi di tutte le determinanti del lifestyle uno psichiatra è alla ricerca del colpo di scena della cosa chiamiamola distonica esplosiva detonante è ok quindi ripeto al momento il colpo di scena è questo che Soboro è tutto centrato poi si fa di eroina colpo di scena ragazzi ma secondo voi non esistono cose di questo genere ragazzi ma sicuramente allora io vi garantisco che il fatto di fare lo psichiatra è qualche cosa di estremamente attinente a farsi cazzi altrui ma chiaro cioè lo psichiatra è quello che quando è sull'autobus si perde nelle discussioni degli altri eccetera eccetera e vi garantisco che lo scenario dell'umanità ma il mio scenario ragazzi se ora aveste una telecamera tutto il giorno su di me ma sai cosa vedreste? no non voglio neanche saperlo ecco non dovete neanche saperlo io non voglio che voi abbiate una telecamera su di me perché come potrei poi tenere questa strutturata assurda recita caratteriale ci sono persone che tu dici ah ma che lifestyle ben ordinato eccetera eccetera e poi in realtà sono drogatissimi tipo oppure hanno un colpo di scena devastante allora ragazzi ma uno come me che è fissato con lifestyle in quest'ottica che cosa vi può suggerire? no non entro nel particolare cioè ma è ovvio che una persona che ha questo genere di attitudine molto precisa molto ossessiva al lifestyle è qualcuno che in passato ne ha viste e questo è un po' l'aspetto che probabilmente può rendere efficace uno psichiatra con un paziente il fatto di non mettersi mai su un piedistallo è di far trasparire sempre che qualche cosa è passato sotto la nostra pelle perché questo è il vero valore aggiunto di identificarsi di essere empatici empatici vuol dire una giusta distanza che non è la distanza di uno su un piedistallo e di uno giù che tu col dito dici ma tu che cazzo di vita fai no tu studente tu professionista e questo è un po' il punto quindi in questo senso qua l'aspetto bello è quello che non si vede cioè le cose interessanti di me non sono io che vi rompo i coglioni sul lifestyle ma che cosa avrò fatto prima di diventare un rompo i coglioni sul lifestyle guarda io cioè secondo me hai un passato di delinquenza questo è il contenuto prossimo prossimo contenuto su ADC Valerio Rosso allo specchio il passato rivelato il passato scomodo del professor allora noi avevamo pensato un contenuto che avrebbe fatto radiare con voi due così che avremmo fatto radiare Valerio dell'albo dei medici e il video del video youtube era canne al parchetto col dottor Rosso canne al parchetto secondo me lo facevamo radiare interessante capiamo psilocibina in un'area industriale manca solo una cosa manca solo un pilastro dell'Eister in questa nostra analisi totale tombale sono riuscito a dirlo hai visto e cioè le dipendenze ma non le dipendenze cioè le dipendenze da quello che ho capito non stiamo parlando di grandi Valerio non si occupa soprattutto cioè poi ci sono le dipendenze quelle che devi andare di andare in riabilitazione se sei un alcolista se hai problemi con la droga è un altro discorso ma delle piccole dipendenze quotidiane cioè appunto lo zucchero la caffeina io per esempio avevo molto la caffeina da quando Valerio mi ha fatto un culo così non compro più la coca zero la bevo solo fuori casa in casa non c'è più la nicotina tu ti impallini di caffè bevi alcol no zero caffè ma giusto al mattino ma c'ho la macchinetta di Nespresso quindi un napoletano che non beve il caffè il caffè normale non c'è l'espresso non mi è mai piaciuto sei molto contenuto però bevo solo alcol alcol zero ma se io do di zero io a parte sono a stemio sono proprio a stemio mi basta bere proprio così e siamo uguali e te parto ma una birra ma se capita ma veramente uno due volte all'anno sì come me che a Londra sei ostracizzato praticamente nella vita sociale se capita e esco con con mia moglie o prendo una coca cola per dire ma una birra deve essere proprio un posto che so che la fanno buona che la fanno lì oppure ecco con Alessandro abbiamo un amico in comune che si chiama Gabriele lui il massimo esperto di birre allora quando scendono in Italia usciamo insieme lui prende una birra strana ora magari l'assaggio ma giusto proprio per capire il sapore però non sono mai stato un amante dell'alcol mai neanche dei super alcolici cioè l'unica cosa che mi piace è l'amaretto di Saronno e lo compro solo a Capodanno basta compro solo a Capodanno fumare zero no non fumo forse l'unica ma neanche dipendenza l'unica cosa su cui non voglio sapere niente mi piacciono gli M&M's mi piacciono gli M&M's però ecco non è che entriamo nell'ambito quelli gialli però non è che mi compro un pacchetto di M&M's al giorno torniamoci chiaro entriamo nell'ambito dello zucchero entriamo nell'ambito dello zucchero perché lo zucchero è qualcosa che nessuno di noi autenticamente spontaneamente naturalmente scambia per un potenziale oggetto di abuso mentre invece probabilmente fra cento anni considereranno lo zucchero considereranno le mamme di oggi mia mamma le vostre mamme che ci facevano una specie di token theory con le caramelle quindi se stai bravo ti diamo la caramella o una variante sul tema di questo genere di dolciume e questo è interessante perché non è che ti fanno questo genere di bilancio con il carciofo non è se stai bravo fai studi ti darò un carciofo non sarebbe interessante provare a vedere se i bambini rispondono veramente interessante però hanno fatto già questo esperimento adesso e i bambini non lo vogliono il carciofo non rispondono adesso non ricordo il riferimento ma l'hanno già fatto ok l'hanno già fatto e quindi stai ma quante ne magni ma se capita ecco il sabato oppure la domenica durante il weekend il dolcino lo prendo sempre quello sì no però più che dipendenza è egoismo nel senso che con tutti qualsiasi cosa se capita diciamo mi fa assaggio a questo mi dai questo io divido sempre tutto con tutti gli M&M's no non esiste sono tuoi no sono miei cioè proprio pure mia moglie questo è interessante mi dai un M&M's e io lo guardo male dico non esiste te lo compri comprati il tuo no ma sul serio cioè potremmo andare a cena a pranzo insieme tutti e tre e io potrei darvi tutto il cibo ma se c'è una bustina di M&M's non esiste non so da che cosa nasce questa cosa veramente lo so ascoltami adesso ti chiedo una cosa specifica perché io lavoro tanto con i ragazzini che hanno problemi di comportamento alimentare ok ecco e sugli M&M's sugli Smarties che poi insomma sono la stessa roba e no e no non dire mai un appassionato delle M&M's che lo Smarties è uguale ecco è questo il punto che se noi abbiamo una busta di Smarties io ti do tutti gli Smarties che vuoi ok ma gli M&M's no va bene parliamo di M&M's sì ti sto chiedendo questo qual è il tuo stile di assunzione cioè uno alla volta due o tre per volta oppure manciata uno alla volta e li succhio cosa vuol dire li succhi questo è un ottimo elemento positivo allora uno alla volta e li succhi allora sì ne rimuovi la coltre e poi ti fai il cioccolato bravo ma come non capito se maniano non ce l'ho ma le M&M's da farti vedere metti le M&M's in bocca sì ma io ho capito benissimo leggerissimamente lo schiacci ok e poi invece di mangiartelo te lo su te lo gusti piano piano finché non si scioglie in bocca e poi rimane la nocciolina all'interno che ti mangi ok ma questo è è una follia è una follia no 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 questo è un elemento di valore che ci porta Angelo è un elemento di controllo ed è è è psicopatia delinea delinea un orizzonte è psicopatia ma perché tu Ale come li mangi a mangiarte secchiate no ma non te li godi così ma non esiste voi sapete che io sono la persona che mangia più velocemente che io abbia mai conosciuto io a malapena sento i sapori no 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 ma scusami Alessandro sì è vero quello non ma io non so Valero cosa ti dirà però se tu ti prendi una manata e ti metti 6.000 M&M's in bocca uno non te li godi tutti finiscono subito perché noi non vogliamo questo no no ma Angelo questo ha per un orizzonte di benignità di un eventuale abuso di zuccheri semplici nel senso che tu hai un controllo e sei come dice un vero appassionato fra virgolette in cui potresti avere la possibilità di eventualmente muoverti in un ambito di normalizzazione di questa forma di dipendenza ok perché chi invece va avanti a grandissime mangiate assecchiate come pare altro sarei anch'io ok faccio outing anch'io coming out decisamente ecco questo qua è una cosa positiva nel senso che vuol dire che tu come sembra effettivamente sei hai una struttura di controllo chiamiamolo corticale corteccia frontotemporale molto buona che da una parte ti rende possibile gestire una probabile disregolazione dell'utilizzo dei carboidrati semplici ma parallelamente potrebbe essere allo stesso tempo un tuo elemento di forza ecco tieni conto che la corteccia però è diluibile nello stress ha la possibilità di diminuire questo controllo nel momento in cui tu hai stress e mi sto chiedendo infatti se eventualmente sarebbe da approfondire in tutti i pilastri veramente quello dello stress in cui siamo andati più veloci abbiamo superato appunto perché si doveva entrare a un livello troppo profondo inopportuno in questo contesto però così come spoiler di un ipotetico proseguio eventualmente io e te in un altro contesto potrebbe essere quello di capire un pochino meglio l'aspetto dello stress del trauma che è un ambito in cui la tua corteccia potrebbe essere compromessa proprio perché diciamo che le dipendenze derivano da una corteccia sottoposta a stress che fa funzionare il nostro cervello antico il famoso cervello retiliano che è totalmente dopamino dopamin driven quindi bisogna essere insomma bisognerebbe un po' analizzare io per esempio quando ho un craving di qualcosa non esiste che me lo gusto cioè io per esempio la cosa che più è problematica per me con l'alimentazione sono i formaggi cioè se io ho mezzo chilo di asiago ma sparisce in un quarto d'ora cioè me lo mangio a morsi non riesco invece il fatto che tu riesca a controllare cioè per me è fantascienza cioè io non riesco io mangio solo compulsivi non devo averlo in casa semplicemente le dobbiamo fare la copertina la criptonite del dottor rosso e la gorgonzola quella di De Conceni tu gorgonzola io gorgonzola la mia criptonite per me è la mozzarella e l'asiago sono i due formaggi che più e invece la criptonite di De Conceni la criptonite di Angelo è misteriosa non è ancora semplice identificare alessi è uguale la mia compagna gli M&M's sono quelli gialli e se gli arriva gli smarties cioè si arrabbia cioè non scherziamo non solo M&M's c'ha ragione non scherziamo c'ha ragione non solo M&M's devono essere gli M&M's e gialli è certo no no se no cioè gli altri non è che non sono buoni però non è la stessa cosa no a Miles Davis portare invece che l'eroina che ne so la chetamina si incazza cioè è giusto così non confondiamo le sostanze e gli abusi è chiaro ovvio è importante estrarremo da tutta questa conversazione uno short soltanto di quando Valerio osa dire smarties e noi due ci inalberiamo assolutamente è bellissimo ragazzi sepolto di improperi è da più di un'ora che noi stiamo abusando psicologicamente di Angelo di Angelo ma non è un abuso è un piacere ma questo è un male che piace questa potrebbe essere una cosa psichiatrica da esplorare è un male che piace devo dire la verità questi contenuti mi sta piacendo produrli perché sono effettivamente difficili da fare per la persona che viene messa un po' sotto il microscopio però penso che diano tanto cioè diano tanto sia le persone che li fanno sia poi chi ascolta vedo che hanno una risposta molto buona io non ho voluto e adesso poi da questo momento andrà a seguire Valerio Urbi e Torbi io non ho voluto indagare proprio per non avere preconcetti di nessuna natura venire qui veramente totalmente vergine e forse magari perché ecco di questa è una cosa che non abbiamo toccato io di solito su web non parlo mai di me stesso Alessandro lo sa perché sono quel tipo di persona che ecco pensa che le persone vengono ad ascoltare quello che dicono non gli interessa nulla insomma della mia vita privata la mia vita privata cerco di tenere sempre per me però qui ho detto ok Alessandro mi piace di fare questo no a parte un gioco magari è anche andare un attimo oltre la mia solita comfort zone e quindi io l'ho apprezzato tantissimo anche io davvero ma sei stato coraggioso chiaro sì veramente ma qua non c'è niente da nascondere non è che poi dopo adesso magari vado dietro mi comincio a drogare faccio cose no non vi preoccupate in realtà appena chiude la camera c'è un secchio di MMS ci mette proprio la faccia dentro no 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 ma anche su quello ecco no quando uno dice ti trattieni proprio perché mi piacciono tanto mi trattengo nel senso che ecco se ci fosse un chilo di M&M's sarei anche forse capace uno alla volta di mangiarmeli tutti ma non lo faccio cioè mi compro quella bustina sabato la domenica adesso vi racconto questa per chiudere questa live meravigliosa io sono famoso per avere un amore giustificato perché sono la cosa più buona del mondo per i coccodrillini gommosi dell'Aribo che ritengo essere il dolce definitivo perché è la caramella perfetta nel corpo del predatore perfetto il coccodrillo regna sovrano e io ne mangiavo un sacco in periodi della mia vita in cui avevo meno controllo sull'alimentazione un giorno a Natale mi regalarono per farmi uno scherzo una busta da un chilo e io la mangiai tutta di fila e poi sono stato malissimo malissimo un chilo di quei cosi è plastica e però loro me l'avevano regalata per scherzo tipo adesso se ne mangia un chilo e poi non mangiate un chilo davvero senza fare una piega e poi sono stato malissimo non si scherza con le pulsioni ma la vera domanda è ma poi hai rimangiato di nuovo i coccodrilli non mi fanno ho fatto una piega il giorno dopo l'avrei rifatto perfetto non c'è vera patologia alimentare allo stato barato noi le cose le facciamo per bene qui bene ragazzi grazie a tutti e grazie a Angelo grazie a Angelo per essere stato qua ma grazie a voi è stato un privilegio bello bellissimo allora adesso la chiudiamo qui e ci rivediamo per il prossimo video per la prossima analisi e cercheremo di trovare qualche altra anima pia che si presti a questa la troveremo Ale alla prossima io parto alla ricerca ciao grazie a tutti grazie a tutti